Bene, passiamo la parola a Lucrezia Guidone che io, voi lo sapete già, ma io interpreta la direttrice Sofia Durante, che è una direttrice dura. Sì, buongiorno, è un personaggio, insomma mi hanno affidato, come si dice, una bella gatta da pelare l'anno scorso, perché comunque è stato un ingresso nel quale non mi sono fatta a sconti come attrice, sono andata incontro anche a tutto questo essere così odiosa di Sofia, però penso che non bisogna giudicare poi il personaggio, ma lasciarsi andare e in questa stagione potremmo capire tanto probabilmente delle ragioni che hanno fatto essere Sofia anche così in quella precedente. Io ci tengo anche, diciamo, oltre a tutte le cose meravigliose, ringraziamenti che ha fatto Ivan, giustamente a ringraziare tutti i colleghi, che si dice sempre, però veramente in questo tipo di serie sono fondamentali, perché un po' l'aria che si respira assolutamente, Maria Pia diceva, uno dei segreti è il cast, cioè questa unione, questo affetto che abbiamo anche l'uno per l'altro, la cura che c'è sul set anche tra i più giovani, il fatto che non vengano mai, a volte si pensa a chi è giovane, impreparato, invece sono dei ragazzi che vengono veramente con coscienza e di questo sono veramente molto felice, spero che continui ad essere così, sono delle piccole grandi stelle e sono molto legata a loro e poi volevo appunto salutare Carmine Recano che non è qui stamattina, però è stato insieme a Vincenzo Ferrera e Antonio anche, adesso vedo qui segnati come gli adulti, va bene, sono assolutamente delle spalle insomma su cui piangere e con cui ridere, quindi insomma non potevo desiderare gruppo migliore, vi ringrazio e ringrazio anche Roberto Sessa che è stato veramente una colonna portante, continua ad esserlo e quindi ecco, grazie a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti.